Ben tornati su... Quei due sul server, due sul gioco del 2014, Butch Dogs Butch Dogs, quest'uomo che guarda i cani tutto il giorno Ah, vabbè ragazzi, noi abbiamo fatto diversi esperimenti, abbiamo provato anche ad utilizzare la speciale applicazione Speciale perché funziona per 5 secondi, poi non funziona più Sì, la cosa triste è che io ci siamo collegati per un attimo, l'ho visto online per un attimo, poi niente, si è perso, non si sa perché Vogliamo dire cosa fa questa speciale applicazione? No, l'applicazione di per sé è figa, ci sono tanti minigiochi, io sul cellulare ho una mappa E lui in game dovrebbe evitare tutte le cose che gli butto dietro, quindi polizia, aerei, elicotteri e via discorrendo Insomma, è una cosa che si può fare benissimo, quando uno è al pc l'altro sta cagando, si può giocare comunque insieme senza... Sì, ma è una cosa molto molto figa, che mi piacerebbe davvero provare, invece no E invece no, sarebbe troppo bello Comunque, che cosa andiamo a fare oggi? Allora, abbiamo appena... Ruba la macchina Io gliela fotto la macchina Abbiamo appena beccato un'attività criminale Dobbiamo raggiungere il covo della banda di alcuni criminati Ha 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 ha, è inguitabile Alcuni criminali, e per farlo abbiamo un giro Vedi, posso passare da qui C'era un salto, tutti i nostri amici hanno visto il salto Glietevi dai maroni No, è inguitabile, giuro che è inguitabile È la stessa macchina con quella quale hai vinto la missione di prima Ma è inguitabile, oggi è molto più inguitabile di ieri A cambia, solitamente C'è un pugno lì, che sarà il pugno? Il covo della banda Ma che devi fare di menare? Potrei andare qui, tipo? Non puoi menare, non sei nessuno per menare Vedi il covo della banda Proviamo Scendiamo qui Parcheggiamo qui che non dà fastidio a nessuno X, Y Allora, avviamo il covo della banda Wow Allora, questo stronzo gode a picchiare le donne Vediamo se si diverte quando Lo picchio io Siamo facendo i difensori di sta ceppa Dobbiamo raggiungere quell'obiettivo Ci sarà ancora la mia macchina parcheggiata gentilmente In mezzo al cazzo In mezzo al cazzo, sì Penso di Bravo, bravo Come vai tu in giro Come Schumacher la faccio sta cosa Madonna, madonna Sull'olio extravergine Devi, devi Non è che tu quando arrivi in macchina Prendi e schiaccia a manetta l'acceleratore Devi andarci leggero Senti Leggero Oh, sta là l'uomo Ognuno guida un po' come si sente Io guido così e lo sai bene No, non si guida così Puoi comprare i giornali Non me ne frega dei giornali Io voglio trovare questi criminali Mi sa che devi salire sull'edificio Ci saranno delle impalcature Ecco qua Allora X ascensorizza Portami su Portami su Dai, dai, menalo, menalo Dai, menalo Dai, dai, dai Guardate come è deciso Guardate lo sguardo deciso di Aiden Profila i due bersagli Dai, profila, profilassi Perché così Sei entrato in una zona vietata Ah, ma siamo già arrivati in una zona vietata Dai, menalo, menalo Ora lo profilo Dici che l'ho profilato abbastanza? Si è cagato in mano, secondo me Ok, dai, vai avanti Carca puttana T'ha visto, t'ha visto, t'ha visto Non m'ha visto, non m'ha visto T'ha visto Non può vedermi Dai, dai Fagli vedere, fagli vedere Che cazzo è Che cazzo è Di surprise T'ha visto quell'altro, t'ha visto quell'altro Non m'ha visto, non m'ha visto T'ha visto quello su, t'ha visto quello tu T'ha fregata, 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 fregata Che culo, però Dov'è? X No, non lo fai spaventare Deficiente Deficiente Sei un deficiente Ma pensavo di essere al coperto In effetti ero al coperto Oh, aspetta Stranamente ti rivedo sulla missione Aspettate ragazzi Che forse Redez riesce a vedere la mia posizione attraverso Ti vedo nella cosa, ma non sei disponibile Sei in una missione principale Allora, finiamo questa missione Però dai, ti posso aiutare dall'alto forse Sì, dammi un consiglio Cosa potrei fare qui Allora, aspetta Oltre a evitare di fare stronzate come ho fatto qui Io, ci sono tre macchine giù che stanno passando Vedo solo le macchine che passano Allora, devo profilare i due bersagli Ma scusa, c'hai la cosa, l'infrarossi, lì Merda C'è qualcosa a cui posso connettere? Che si, ti stai spostando Io vorrei leggerissimamente connettermi a qualcosa Alcolizzato Sparagli me, madonna Ma no, sono cercato di farla stealth Che cazzo Senti, mi sono già, mi sono già, mi sono già, mi sono già rotto tre quarti Ma dovete morire Se questo è stato, madonna quando sei scarso Madonna quando sei scarso Ma sai, sai perché, perché, allora, questo gioco all'inizio ti dà dei consigli Scivola, scavalca una copertura dove c'è il nemico Farà tutto automaticamente Si farà prendere ammazzate automaticamente Quello era il consiglio Mamma mia, oh madonna Ragazzi, scusate, è soltanto che No, ma sei scarso È la verità Io senza sapere Nella gennaio scrive l'altra volta Guarda come Ma è possibile che tu gli vai di fronte ai nemici? Aspetta, aspetta Che punto di merda Aspetta, fammeli profilare Ma che Chiamato o compare in tribuna No, no Chiamato o compare in tribuna Dai, sparagli Sparagli che non ti sente nessuno Ma come non mi sente nessuno? Sparagli T'ha visto, t'ha visto Madonna È andato giù un'ora dopo Dai, cazzo Ma perché ha laggato la bestia? Vai, che abbassa, che abbassa Serve la polizia Ah, ma non c'ha il silenzatore Ecco perché ti sgamano tutti Eh, certo Io lo so però che non hai silenzatore Sei tu Ma no, ma io Con il mio personaggio ce l'ho Vabbè, tu ce l'avrai messo Che cazzo No, non ce l'ho messo Dai, sparagli in faccia Ma no Ma perché? Cane maledetto Gli potevi sparare e basta Arco il demonio Dove cazzo sta? Cazzo, sei scarso Ma è pieno di gente sto posto Si è riempito di merda Angolo Ah, puoi Sì, sì, come no Aspetta Puoi girare qualcosa, puoi girare Giralo Ah, ah, angolo Non posso girarlo Devo, devo, devo scappare Devo scappare Sei scarso Mi è uscito dal culo il fucile Non si sa perché Vabbè, ho capito Devo andare dall'altra parte Perché adesso sto salendo da un lato Che non è proprio No, no, eh Ragazzi, ditelo Ditelo in commenti Chi è che gioca meglio Ti faccio vedere Ti faccio vedere È che io sono più vicino al flucking Il problema è che adesso salivo da questo cazzo qui Allora Oh, l'hai capito Bravo, bravo Vabbè, uno ci deve sbattere la testa Ma tu ce l'hai sbattuto un paio di volte No, non di litiglia inutile Da dove cazzo si sale Usa l'ascensore È bella quella macchina Dopo ce la prendiamo Ok Qua si sale facile Oh, ce ne sono due Non mi va di fare le cose hackerate Bravo, bravo No, bravo Bravo, veramente Fatto Ma perché? Il bersaglio è morto Devi solo atterrare Ah, uccise il bersaglio Però adesso sappiamo che quello è il bersaglio Adesso sappiamo che quello è il bersaglio A meno che non cambi Ti pare poco Ah, si verrà il corretto Se non sapete giocare Ah Io non ho Non ho veramente parole Dai, dai E' come il gameplay E' brutto e brutto Eh, mo adesso Bisogna dire la verità Ma a me mi dispiace Tutte quelle persone Che ci stanno seguendo E pensano di vedere qualcosa di bello Profila, profila Profilalo Fammi profilare Dai, dai Entra, 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 entra Aspetta, aspetta Sali, sali, cazzo Sali, vai Ma sono in due Come faccio? Dai, dai Menali, menali Menali Tanti devi atterrare Secondo te si possono atterrare in due Oh, vai Mena Oh Il bersaglio ne deve Vattene, vattene Ah, ne rimane uno No, quello va a finire Quell'uno No, 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 no No, 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 no Madonna, quanto cazzo sei scato Chiudiamo sto gameplay Per favore Eh, madonna Madonna